un ultimo bis evviva di gianni morandi saluta il suo pubblico il palcoscenico è pronto le luci si abbassano un silenzio carico di attesa avvolge la platea stasera l'icona della televisione italiana gianni morandi sale sul palco per l'ultima volta nel suo amato show evviva è un'occasione agrodolce una celebrazione di 70 anni di storia della televisione italiana e un commosso addio a un programma che ha conquistato il cuore di milioni di persone l'aria vibra di trepidazione mentre morandi con la sua caratteristica cordialità e il suo carisma si prepara a condurre gli spettatori in un ultimo indimenticabile viaggio musicale l'ultima puntata di evviva promette di essere una serata di esibizioni straordinarie omaggi sentiti e quell'inimitabile connubio di nostalgia e modernità che è diventato sinonimo dello show sette decenni di televisione italiana un'eredità celebrata evviva è diventato molto più di un semplice programma televisivo è un'istituzione cara un riflesso dell'identità culturale italiana e una testimonianza del potere duraturo della musica di unire le generazioni dai suoi inizi in bianco e nero alla vivacità dell'alta definizione di oggi la televisione italiana ha rispecchiato l'evoluzione del paese ed è viva si erge a simbolo orgoglioso di questo percorso il finale di stasera è un omaggio ai pionieri che hanno plasmato il piccolo schermo agli artisti che hanno incantato il pubblico e ai momenti che sono rimasti impressi nella memoria collettiva del paese è una celebrazione di risate lacrime e dell'esperienza condivisa di guardare la storia che si svolge nei nostri salotti Gianni Morandi un'icona senza tempo della musica italiana al centro di questa celebrazione c'è Gianni Morandi un uomo la cui carriera ha attraversato decenni la cui musica è stata la colonna sonora della vita di milioni di persone dai suoi esordi come giovane rubacuori al suo attuale status di decano della musica italiana Morandi è rimasto una figura amata con la sua energia e la sua passione intatte il suo percorso è la dimostrazione del potere del talento del duro lavoro e di un legame indissolubile con il suo pubblico ha condiviso il palco con leggende e nuovi talenti approcciando sempre la musica con umiltà e gioia stasera accoglie una schiera di ospiti stellari ognuno dei quali rappresenta un capitolo diverso nel ricco arazzo della musica italiana ciò che contraddistingue e viva è la sua capacità unica di creare un ponte tra le generazioni è uno show che entra in sintonia con chi ricorda l'epoca d'oro degli spettacoli di varietà italiani ma che al contempo affascina i telespettatori più giovani con la sua energia contemporanea e le sue prospettive fresche Morandi con il suo contagioso entusiasmo e il suo amore genuino per la musica è il padrone di casa perfetto per guidare questo viaggio intergenerazionale fondendo in modo impeccabile i grandi successi del passato con le sonorità di oggi il palco di evviva è diventato uno spazio in cui i confini musicali si confondono e passato e presente convivono in perfetta armonia la scaletta di stasera è la dimostrazione della forza intramontabile della musica italiana leggende come Massimo Ranieri e Orietta Berti onorano il palco con la loro presenza con le loro voci potenti ed emozionanti come sempre a loro si aggiungono star contemporanee ognuna delle quali porta il proprio stile e la propria energia unici sul palco di evviva questa fusione di generazioni musicali è la prova dell'impegno dello show nel mostrare l'intero spettro del talento musicale italiano è una serata per ricordare i classici scoprire nuovi brani preferiti e celebrare il potere della musica di trascendere il tempo l'attesa raggiunge l'apice quando Massimo Ranieri sale sul palco vera e propria icona della musica e dello spettacolo italiano la carriera di Ranieri ha molti punti in comune con quella di Morandi la loro amicizia, la loro storia comune e la loro stima reciproca sono palpabili mentre si lanciano in un duetto che fa alzare in piedi il pubblico le loro voci, ricche di esperienza ed emozione, si fondono alla perfezione trasportando il pubblico all'epoca d'oro della canzone italiana è un momento di pura magia, una testimonianza del potere duraturo della musica di unire, ispirare e suscitare un fiume di ricordi Orietta Berti, con il suo sorriso contagioso e la sua voce inconfondibile porta un'ondata di calore e di gioia sul palco di Evviva Tra le artiste più amate d'Italia, la Berti rappresenta il cuore e l'anima della musica italiana con le sue canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla vita di generazioni la sua esibizione è una celebrazione della vita, dell'amore e dello spirito immortale della musica italiana Cattura senza sforzo il pubblico, con la sua energia sconfinata e la sua voce accattivante come sempre È un monito che il vero talento trascende le mode e che alcune voci sono destinate a rimanere eterne Nel corso della serata, il palcoscenico diventa la tela su cui si dipana la straordinaria carriera dello stesso Morandi Montaggi video ripercorrono il suo percorso musicale Dai suoi primi successi alle sue indimenticabili collaborazioni Si condividono aneddoti Le risate si propagano tra il pubblico E un senso di storia condivisa pervade lo studio È un commovente promemoria del potere della musica Di evocare ricordi Di trasportarci indietro nel tempo E di collegarci alle nostre storie personali La storia di Morandi è, per molti versi, un riflesso dell'evoluzione stessa dell'Italia La sua musica, una costante in tempi che cambiano L'ultima puntata di Evviva È molto più di un semplice show televisivo È una celebrazione della cultura italiana Una testimonianza della forza duratura della musica E un monito dell'importanza delle esperienze condivise In un mondo spesso caratterizzato dalla divisione Evviva Si erge Affaro di Unità Un luogo in cui le generazioni si riuniscono per celebrare la bellezza e il potere della musica È la dimostrazione dello spirito immortale dello spettacolo italiano Una tradizione che si fonda sulla passione, sulla creatività e su un profondo legame con il proprio pubblico Mentre le ultime note si spengono e gli applausi inondano il palco Si avverte un tangibile senso di tristezza misto a profonda gratitudine Evviva! Potrà anche giungere al termine Ma la sua eredità vivrà nel cuore di chi lo ha creato e dei milioni di persone che lo hanno amato Gianni Morandi, con un nodo alla gola e le lacrime agli occhi, saluta il suo amato pubblico È un addio accorato, una promessa di serbare i ricordi E un monito che alcune voci, come alcune canzoni, sono destinate a rimanere con noi per sempre Arrivederci, Evviva! Arrivederci, Gianni!